Abbiamo avuto la piacevole soddisfazione di vedere spinta l'ennesima mozione, stavolta sulla decadenza di agri marmiferi, che sono fermi, stiamo parlando di cave ferme in un caso da 11 anni, nel caso più recente da 5 anni, il che significa che sono cave che avrebbero dovuto essere caducate. Abbiamo scoperto che non sono state caducate, ma addirittura sono state riassegnate. In due casi addirittura sono cave in cui ad oggi sono in corso i procedimenti autorizzativi. Siccome la normativa, sia regionale che regolamentare, prevede che le cave inattive da almeno due anni debbano essere caducate, qui siamo di fronte a un'omissione di atti d'ufficio a nostro avviso. Senza contare poi che le cave caducate, sempre per normativa, dovrebbero essere riassegnate, eventualmente riassegnate ad asta pubblica. E quindi capite bene che in ballo ci sono interessi piuttosto grossi. Grazie. 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 Grazie.